Buongiorno a tutti e benvenuti al primo appuntamento con l'informazione di Calabria News 24. La Guardia di Finanza ha sequestrato nel Cosentino oltre 200 litri di gasolio agricolo. Ascoltiamo i particolari nel servizio. I finanzieri del gruppo della Guardia di Finanza di Sibari in provincia di Cosenza hanno sequestrato oltre 200 litri di gasolio agricolo agevolato e denunciato tre soggetti nel corso di una serie di controlli nei pressi di Cassano all'Oionio nei confronti di un furgone che era stato notato uscire dalla sede di una società di commercializzazione di prodotti petroliferi con a bordo due persone. Accertata la presenza all'interno del veicolo di molteplici bidoni di plastica colmi di gasolio privo della documentazione accompagnatoria obbligatoria i finanzieri operanti hanno richiesto l'ausilio immediato di un'altra pattuglia al fine di estendere il controllo anche al deposito commerciale del quale poco prima il mezzo si era allontanato. La rilevazione delle gecenze e il riscontro con la documentazione contabile hanno consentito di ottenere la prova certa dell'avvenuta eccessione del gasolio agricolo in totale assenza di documentazione fiscale. Al termine delle operazioni il rappresentante commerciale dell'azienda e gli occupanti del mezzo sono stati denunciati a piede libero in concorso tra loro. Alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovilla per il reato di sottrazione al pagamento dell'imposizione su prodotti energetici. I carabinieri forestali di Cosenza durante un servizio di controllo del territorio hanno bloccato un uomo intento a trafugare del legname a Marano Marchesato in provincia di Cosenza. I militari hanno colto in fragranza di reato un 62enne di Marano Principato intento a rubare alcune piante da un bosco in località Piano delle Quarte. I carabinieri dopo aver sentito il rumore della motosega hanno individuato il luogo e colto l'uomo mentre caricava la legna tagliata su un camion. Si tratta appunto di circa 20 quintali di cerro ed è stata consegnata appunto il legname al comune di Marano Marchesato quale ente proprietario. L'uomo è stato deferito alla competente procura della Repubblica di Cosenza. E cambiamo argomento. Ritorniamo a parlare della chiusura del reparto di chirurgia di Gioia Tauro. Vediamo se ci sono delle novità. Siamo di nuovo con Pino Pratico per la vicenda della chiusura all'ospedale di Gioia Tauro. Ad oggi cosa è cambiato Pino dopo l'intervista che abbiamo fatto? Ebbè qualcosa di positivo forse abbiamo avuto anche di una nota che ha fatto il PD. La legge ormai parla chiaro che gli spiega che ci sono fatte e quindi i tagli che hanno fatto della sanità. Però purtroppo visto e considerato anche l'operatività che abbiamo dal porto di circa 2.000 persone che girano intorno al porto e i 3.000 extracomunitari che sono lì a San Ferdinando e a Tendopoli le cose sono aumentate. Noi abbiamo 80, 90, 100.000 persone che girano intorno all'ospedale di Gioia Tauro. Di una nota fa notare il dirigente sanitario che abbiamo avuto in contatto con il signor Pasquale Minniti il signor Pasquale Misiti ci fa notare quanto segue che alcune cose sono state già prese in atto tra cui sono state distanziate la bellezza di 2.500.000 euro per il potenziamento dell'ospedale di Gioia Tauro. Quindi questo potenziamento niente da togliere con l'ospedale di Polistana. Attenzione, niente da togliere. Noi dobbiamo potenziare sia l'ospedale di Polistana sia l'ospedale di Gioia Tauro. Quello che non c'è a Polistana è di farlo a Gioia Tauro. Gioia Tauro deve fare una chirurgia urgenza perché una chirurgia, un reparto di chirurgia, una sala operatoria deve aprire con i reparti che sono connessi a loro. C'è la cardiologia, dobbiamo avere chi d'appoggio alla parte dell'anestesia e tutto che deve circondare che gira intorno alla sala operatoria. Abbiamo un dato di fatto che molto probabilmente, quello che abbiamo saputo, a dicembre ci saranno delle assunzioni dei nuovi medici. Quindi ci saranno questi nuovi medici. I nuovi medici permetteranno l'apertura dell'ospedale, quindi il potenziamento dell'ospedale di Gioia Tauro, quello che abbiamo saputo fino adesso, e quindi ci sarà una riapertura alla grande di quello che possono fare. Purtroppo i tagli ci sono. L'unica cosa è che noi abbiamo l'ospedale di Gioia Tauro con la chirurgia, almeno 20 posti letto, quindi con 20 posti letto possiamo andare avanti per questo. L'unica cosa è che il potenziamento della chirurgia generale, ambulatoriale e anestesia, la medicina interna con regime di oncologia, il reparto di cardiologia con il primo intervento e poi i reparti di urologia con i servizi di 24 ore su 24, dell'ariologia, l'attacca, il laboratorio, l'emoteca, tutte queste che siano un segnale e vengono fatte il più presto possibile per far funzionare. E poi la cosa più bella, cioè il CUP, che sia un servizio ambulatoriale dove la gente si può informare, avere immediatamente, con tantissime cose d'attesa da eliminare. Restiamo in tema salute. Il 21 ottobre prossimo a Tauria Nova si terrà un simposio sulla medicina del dolore. Dottore Francesco Monea, sabato 21 ottobre si parla della medicina del dolore? Sì, per noi è un momento molto importante perché è il quarto simposio che andremo ad organizzare. Il 21 ottobre per noi sarà un momento di importanza notevole perché è l'espressione della conclusione di un percorso che è stato fatto durante l'anno. Durante l'anno noi abbiamo organizzato dei corsi di formazione di tecnica infiltrativa ecoguidata, è una tecnica di microchirurgia, oggi molto importante perché si riesce con queste tecniche decisamente mini invasive a risolvere, ad affrontare al meglio alcune problematiche, alcune patologie in maniera poco invasiva e con ottimi risultati. Questo è un momento in cui dopo un anno di lavoro dove all'interno di questo studio si sono svolti percorsi di formazione, tanto dal punto di vista teorico, tanto dal punto di vista pratico, questi corsi sono stati frequentati, partecipati da molti colleghi, ortopedici, anestesisti, quindi terapisti del dolore, reumatologi, fisiatri e questo simposio vuole essere la conclusione, la celebrazione di un anno di lavoro. È un momento importante perché queste tecniche infiltrative coguidate sono una parte essenziale di quella che è la medicina del dolore, una medicina del dolore che oggi noi cerchiamo di affrontare in una maniera decisamente diversa, completamente nuova, con tecniche completamente nuove, con farmaci nuovi e questo porta ovviamente a un risultato eccellente in campo della medicina del dolore, riuscendo a dare sollievo, riuscendo a risolvere, riuscendo a migliorare la qualità della vita del paziente stesso. Il Centro Congressi della Fondazione Terina di Lamezza Terme ha ospitato l'incontro formativo orientativo degli ITS, Istituti Tecnici Superiori della Calabria. Vediamo com'è andata. Alta formazione tecnica per i protagonisti del futuro, questo è il titolo dell'incontro organizzato dalle realtà degli Istituti Tecnici Superiori. Promosso dall'ITS del Tirreno di Fuscaldo, in collaborazione con le altre realtà calabresi, Cosenza, Reggio Calabria, Polistena e con l'ufficio scolastico regionale, presente il direttore generale Diego Boucher. A presiedere per la Regione Calabria la dottoressa Maria Antonella Cauteruccio, dirigente settore alta formazione università e per il MIUR la dirigente ufficio istruzione tecnica superiore Nadia Garuglieri. L'incontro rientra nelle giornate di orientamento per la scelta del percorso di studi o di crescita professionale, come in questo caso, successiva alle superiori. Le conoscenze appunto di queste opportunità. Dal mondo universitario come Ministero dell'Istruzione e della Ricerca ovviamente è la prima cosa, ma dato che ci sono altri percorsi, ci sono i percorsi di studi tecnici superiori che danno l'opportunità di fare un percorso con un diploma che attesta le loro competenze, le loro conoscenze che sono spendibili nel settore lavorativo. Quindi sono opportunità che i ragazzi assolutamente devono saper cogliere e saper prendere. Gli ITS sono senza dubbio un fiore all'occhiello dell'istruzione terziaria non universitaria, perché hanno saputo imporsi nel settore della formazione con figure altamente specializzate, scegliendo ambiti di specializzazione tecnica all'avanguardia e rispondenti a quelle che sono le richieste di un mercato del lavoro sempre più esigente e altamente innovativo e tecnologico. Oggi abbiamo avuto il piacere di avere qui oltre 1500 ragazzi di tutta la Calabria, a quale abbiamo presentato questo nuovo segmento dell'istruzione e della formazione. Un segmento che si pone in mezzo tra dopo il diploma e prima dell'università. Non è un corso professionale, non è una scuola privata, è una scuola statale, una scuola di alta specializzazione tecnologica in alcuni settori. Didattica esperienziale tra teoria e pratica, 30% delle ore come apprendistato all'interno delle aziende, formazione dunque fortemente operativa, ma con un approccio multidisciplinare. Queste le basi per una formazione che professionalizza figure d'ansidire direttamente nel mondo del lavoro. Essere specializzati, essere all'avanguardia, essere in grado di sfidare industria 4.0. La nostra didattica segue appunto questo. L'ITS hanno la presunzione di pensare che in questo modo possono aiutare i ragazzi a trovare nell'immediato il lavoro. Dopo le notizie rientriamo in studio e ancora con noi il segretario questore del Consiglio regionale della Calabria e Presidente nazionale del Coraggio di Cambiare l'Italia, l'Onorevole Giuseppe Graziano. Ben ritrovato, ci siamo rivisti ieri. Buongiorno, come va? In realtà non è andato via, è rimasto con noi. Sono rimasto qua, ma ieri sera è andata molto bene però l'intervista, io l'ho rivista. Siamo contenti, siamo stati efficaci. Siamo stati efficaci, sicuramente chiari. Onorevole, allora c'è un'altra questione da affrontare. L'accorpamento delle due città, Rossano e Corigliano, i cittadini saranno chiamati alle urne il 22 ottobre. Sì, ormai siamo al giovedì prima delle elezioni, quindi mancano due giorni alle urne in sostanza. Io sono il proponente della legge. E ricordiamo il suo parere ovviamente. Il mio parere è molto chiaro perché io sono proponente della legge, quindi sulla fusione fra le due città, perché crediamo che sia un'opportunità unica per il territorio della Sibaritica, un territorio periferico, molto spesso trascurato, che ha necessità non di riscatto, ma di porsi alla pari, con gli altri territori perlomeno della Calabria. Un territorio dove c'è una disoccupazione che ha i massimi livelli calabresi e quindi d'Europa, dove c'è un PIL pro capite che ha invece i minimi livelli calabresi, dove invece dall'altra parte c'è una ricchezza fenomenale dal punto di vista culturale, storico, architettonico e soprattutto di produzione agricole. E allora noi abbiamo necessità di avere una maggiore vicinanza dello Stato, una maggiore attenzione e crediamo che una città di 80 mila abitanti, che sarebbe la terza città della Calabria, uno dei più importanti d'Italia, per superficie addirittura maggiore di Milano e di Bologna, possa avere una forza contrattuale di un peso specifico politico maggiore, che possa far sì che gli interessi e i diritti che provengono da questa terra siano maggiormente ascoltati e soprattutto che ci sia una maggiore rappresentanza, quindi anche politica, di chi viene da questo territorio. E poi offre dei vantaggi enormi dal punto di vista economico, perché per 15 anni avremo 30 milioni di euro che verranno dati dallo Stato in più per chi favorisce i processi di diffusione, che potranno essere investiti per servizi sociali, per palestre, per scuole che mancano in quel territorio. E poi c'è il blocco del patto di stabilità, cioè per 5 anni questo nuovo comune non l'avrà e quindi potrà andare in deroga anche per l'assunzione e soprattutto per gli investimenti. Già queste due voci secondo me creeranno più lavoro, più occupazione e più servizi nel territorio della nuova città. Ecco, onorevole, in chiusura, agli scettici che cosa vogliamo dire? Ma gli scettici in realtà non hanno motivazioni concrete, perché fanno delle questioni esclusivamente di campanilismo e di identità. Io credo che l'identità non si perda, perché il cittadino di Schiavonea continuerà ad essere cittadino di Schiavonea, di Corriano Centro Storico lo sarà ugualmente, il vincolo amministrativo non va assolutamente a decidere sull'identità e sull'origine del cittadino. Io sono Longobuchese, ma mi sento rossanese abitando a Rossano da sempre e mi sentirò coriglianese e dal 23 ottobre in poi si usciterà la nuova città. Quindi chiaramente rimarrò con le mie identità, con il mio santo patrone che sarà la Chiropita e Saniro da un lato e San Francesco da Paola dall'altro, che fra l'altro è il patrone della Calabria e quindi credo che le identità saranno conservate, guai se non fossero conservate, una cosa che va assolutamente tutelata perché deve rimanere. Però credo che l'interesse amministrativo e politico sia un altro, c'è di uno sviluppo occupazionale del territorio e far sì che i nostri giovani, che al momento sono con la valigia in mano, anzi non hanno neanche la valigia perché siamo ritornati alle valigie di cortone, possono avere un futuro nella nostra terra. E allora onorevole commenteremo poi i dati di come andrà? Molto volentieri, i dati sicuramente della vittoria del sì. E allora lo speriamo se è così, ovviamente sono certa che probabilmente... Io sono certo che per parlare il sì sia nella città di Cordiano e sia nella città di Rosano e saremo qua a festeggiare la nascita di questa grande opportunità per il territorio e per i cittadini della Sibaritide tutta e non solo delle due città interessate. E allora speriamo di vederci presto onorevole. Grazie molte. Grazie ancora Giuseppe Graziano e noi ci vediamo più tardi. Grazie. Grazie a tutti.